Studio 7 TV e Sport Piccelo Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuto alla nuova puntata A questo punto abbiamo ospite una band Qui abbiamo ospite un membro della band L'altro membro si doveva collegare Ma poi problemi tecnici Non è riuscito a far funzionare il telefono perfettamente Abbiamo il libero professionista A questo punto la prima domanda solge spontanea Se devi descrivere oggi chi è la band Com'è la gestiresti? Allora, la band Allora, innanzitutto io sono Jacopo Sono cantante e bassista della band E gli altri membri sono appunto Bobo, Matteo ed Emilio E ad oggi direi semplicemente che siamo Dei ragazzi che tra le varie difficoltà della vita Stanno provando a divertirsi, suonare Ed esprimere qualcosa Ecco, questo penso sia la cosa più importante della band Esprimere qualcosa A questo punto parliamo del primo disco reboot Un EP contenente Tanti brani alla fine Questo Cesar Martins Quando nasce questo EP e soprattutto come si è poi evoluto nel tempo Per poter ottenere questo risultato Allora, l'EP nasce qualche anno fa Già da prima dell'infausto covid Noi suonavamo queste canzoni nei live Con una caratteristica molto più punk Rispetto a come è nel disco Le canzoni poi in fase di registrazione In fase di produzione si sono trasformate Hanno aggiunto delle caratteristiche Quali per esempio anche l'uso di sintetizzatori Poi noi abbiamo voluto cercare di farle suonare Anche un po' più pulite Cercando anche di ispirarci ad artisti come I cani Che è quindi proprio un'idea di punk Ma che strizza l'occhio un po' anche Ha un sound più pulito Vorrei dire quasi pop Però non è pop Non è pop punk È una cosa diversa Quindi più o meno questo è come è andata la registrazione E a questo punto parlando un po' singolarmente Dei vari brani Come nascono questi brani Da cosa tra ispirazione Abbiamo visto tante influenze Parliamo di rock Poi non è proprio il buon rock Che voi fate normalmente in live No esatto Allora A me personalmente Ma condiviso anche dal resto della band Piaceva proprio l'avere questa dualità Tra disco e live Cioè ci piaceva che uno ascoltando il disco Ha un determinato tipo di esperienza Invece venendo al nostro live Ne è un'altra Che rispecchia Anche di più magari Proprio noi come persone Quindi un live bello Bello punk Bello grezzo Anche un po' più cattivo Del disco I pezzi Nascono fondamentalmente Da mie esperienze personali Dato che sono io che mi occupo Della scrittura dei testi E in questo primo EP Abbiamo parlato Principalmente di Di due argomenti Uno è la depressione E ansia E tutto ciò che Che la circonda E ho voluto anche Un attimino Approfondire il tema Delle Delle relazioni Sentimentali Senza farlo in un modo però Sdolcinato O ultra positivo Come spesso si fa Ma Vedendo anche i lati negativi Delle relazioni Che non sempre È facile Poi oggi che è San Valentino Nella realizzazione dei testi Voi potete essere Più longevi Come testi Oppure Un po' più come l'inglese Dove Vabbè musicalmente È un po' più E' un po' più E' un po' più E' un po' più Essere un po' più sintetici Un po' più ermetici Allora Io come Come priorità Nei testi Cerco di avere La musica So su cosa Devo scrivere In un determinato test Una determinata canzone So l'argomento Però Preferisco che il tutto Sia strettamente connesso Alla ritmica Della musica Alla metrica E alla melodia Se devo sacrificare Qualche parola O modificare Qualche cosa Preferisco così Per far suonare il tutto In modo Più musicale possibile Che con l'italiano Non è mai semplicissimo Anzi E' un po' più tosta Dell'inglese Anche perché in italiano Tutti ti capiscono Quindi Tutti conoscono l'italiano In Italia Generalmente E invece Nella realizzazione Appunto Continuando Nella realizzazione Dei testi Nasce prima Un bit Un riff Oppure Nascono prima Le parole Oppure Possiamo dire Che in un caso Strano Ma nascono insieme Allora Allora Per assurdo La cosa più probabile Che nascano Che nascano insieme Le cose Sembra improbabile Però Generalmente è così Io personalmente Prima di scrivere Un testo Che penso sia Accettabile Devo fare veramente Tanti tanti tentativi Lo stesso vale Per Per la parte musicale Quindi generalmente Ciò che mi esce Bene Ciò che mi esce Qualcosa che si può pubblicare È quando Sono preso In un momento Di ispirazione E mi vengono Entrambe le cose Mi metto con la chitarra E nello stesso momento Mi esce Una melodia Qualcosa E già ci canto sopra E vengono anche le parole Ma soprattutto A questo punto Noi abbiamo chiamato Il libero professionista Oltre che C'è un messaggio La direzione E ho detto Ma c'è un errore Didattica Di grammatica Perché suona male Questo il libero Professionista I Po I Come mai Questo I Perché Questo I Allora I libero Professionista Perché Innanzitutto Beh Siamo Quattro persone Quindi Il plurale È dato anche dal fatto Che siamo Quattro membri Di una band Però soprattutto È dato dal fatto Che il nome È una citazione A A un brano Dei Voina Che sono una band italiana Che Tutti noi Della band Seguiamo E amiamo Direi Dove Testualmente In una loro canzone Dicono Sono un libero Professionista Libero Nel senso Che non faccio niente Qui parafraso Perché dicono Una parolaccia Professionista Nel senso Che sono sempre Migliore a farlo Noi abbiamo Proprio preso A cuore Questa cosa Cioè Il non fare niente Ed essere migliori A farlo E abbiamo Voluto Dare il nome Alla band Seguendo questa cosa E invece Il nome dell'album Che In una copertina Dove c'è La foto Del vostro membro Con questo sfondo Rosa Dove non c'è Scritto niente Ma c'è soltanto Lui al centro Ma soprattutto Per quale motivo Questo titolo Dell'album Allora Cesar Martins Che È anche La persona Che c'è Nella copertina Dell'album Non è un membro Della nostra band Ma un nostro amico Ed è proprio questo Il motivo Del Del nome Anche il significato Della Title track Dell'EP Quindi Cesar Martins Appunto E cioè Che noi Volevamo Mettere L'attenzione Sul fatto che All'inizio Di una band Non solo Ma soprattutto All'inizio Gli amici La compagnia Sono veramente Le persone Che più di tutte Ti sostengono E ti aiutano Nonostante magari I tuoi amici Ascoltino Generi diversi Quindi Magari Musica Anche che non Li piace Quella Quella Che fai Però ci sono Ci sono sempre E comunque Questo era il senso Dell'EP Cesar Martins È proprio Uno dei nostri amici Uno dei nostri Più vecchi amici Della compagnia E E l'abbiamo voluto Prendere un po' Anche come Come simbolo Di questo Di questo Primo EP E invece Suonare dal vivo Poi chiaramente Facendo Punto a detto Non tanto rock Ma punk rock Poi Poi Lo stile italiano Con la Con la variante italiana E Qual è la vostra Sensazione Che provate Quando in cui salite Sul palco Anche perché Non siete fermi Però Quella sensazione Che provate Quando in cui C'è quell'energia Sotto Che Non ci fate caso Perché siete concentrati E tutto Però Quell'energia Che sale da sotto Il palco Piano piano Sale E vi investe Ma voi Che poi Ritrasmettete Con la vostra Musica Con le vostre parole Con tutto quel suono Che Inondate La gente Qual è la vostra Sensazione In quel caso Allora Personalmente Suonare È sempre Suonare live Suonare questo genere Quindi un genere Molto intenso Anche carico A livello di emozioni È sempre stato Un modo per Colmare Il mio bisogno Di Di essere Non solo accettato Ma anche Anche Ascoltato E Quindi Suonare Mi rende Semplicemente Felice Perché È appagato Perché Mi fa sentire In una maniera tale Che le cose Che ho da dire Le emozioni Che ho da esprimere Siano effettivamente Ascoltate E sentite E sentite Ci danno un pochettino I vostri brani In questo Disordine Sei qui E siamo gli stessi Che parlavano Qualche istante fa Nel Questo genere Qual è? Ci sono un po' Di influenze musicali Abbiamo notato Diversi generi Che in fondo Il rock Non è solo rock Ma è Tante forme di rock Sì Allora Noi come Come ispirazione Veniamo da un mondo Che è quello appunto Dei Già citati Voina Quercia Gomma Quindi Fondamentalmente L'underground Italiano Di questo genere Poi Il disco Sicuramente Ha anche Altro tipo Di influenze Mi viene in mente Primo tra tutti Oliver Tree Che è un artista Internazionale Però Anche Il nostro sound Si rifà sicuramente A quel tipo Di movimento Lì Anche I già citati Cani Sono sicuramente Tutte influenze Per noi Importantissime Ovvio Anche Il caro Vecchio Punk Classico Quindi Sì Assolutamente Sì Ha un po' Un insieme Di Tanti vari Influenzi Specchio Anche Di come Noi Quattro Membri Della band Abbiamo Tutti e Quattro Ascolti Abbastanza Differenti L'uno Dall'altro Quindi Abbiamo messo Insieme Un po' Un po' Tutto Invece Passare Da La sensazione Passare Da sotto Il palco Come fan A si trovarsi Sopra il palco Come cantante Come musicista Come artista Quali Le due Sensazioni Che ci sono Che probabilmente Ancora restano Perché La fine Si è sempre Un po' Fan Di qualcuno Eh Allora È difficile Questa domanda Sono due cose Sono due cose Diverse Diciamo che Da fan Stare sotto Un palco La sensazione Principale Che provo È cercare Di divertirmi Di far casino Nei contesti più piccoli Anche Di farmi notare Dalla band Quindi sbracciandomi Più non posso Sul palco Come ho detto prima È già diverso Perché tutti ti notano A prescindere Quindi ciò che fai Ciò che dici Deve Deve comunque Essere Si spontaneo Però Ogni tanto Bisogna anche Bisogna anche Studiarlo Perché Essere troppo Spontanei Non sempre Funziona Perché sul palco Sei anche giudicato Da fan Invece Sei lì tu Per divertirti E anche per giudicare Quindi è proprio Diverso Invece la sensazione Poi scendendo Dal palco Che incontri Le persone Che ti salutano Ti fanno i complimenti Oppure comunque Li vedi Con quel viso Sorridente Perché Gli hai regalato Quell'oretta Quella mezz'ora Quell'un'ora Di Libero pensiero Senza pensieri Ed è Le hai visti Proprio contenti Qual è A quel punto La tua sensazione Allora Io Io personalmente Sono una persona Abbastanza Timida Quindi Dopo che Finiamo di suonare Mi sento sempre Un po' In imbarazzo A parlare Con qualcuno Sia che abbia Giudizio negativo Sia che abbia Giudizio Positivissimo Mi sento sempre Abbastanza in imbarazzo Sembra un po' Un controsenso Perché comunque Salgo sul palco Letteralmente A cantare Davanti a tutti Però È così Però è sempre Sempre bello Sapere se Che c'è qualcuno Ai nostri live Che Insomma Che si è divertito Che le è piaciuta la serata E Quello Quello assolutamente È la cosa migliore Possibile In cui sperare In un live Se invece Dovessi scrivere Oggi In questi istanti Prendendo Ad esempio Siamo gli stessi Invece di farla In questa versione rock La dovessi fare In persone Qualsiasi altro genere Quale genere Secondo te Sarebbe adatto A questo testo Secondo te E riusciresci Ad adattarla Allora Questa domanda Veramente Veramente Tosta Eh Allora Se devo considerare Solo il testo Quindi un testo Per me Abbastanza triste E anche Abbastanza Emotivamente Forte La rifarei In chiave Scream Quindi Tutta urlata Con chitarre Più distorte Di Di qualsiasi cosa Eh Si potrebbe Riarrangiare In una In una chiave così Musicalmente Invece Senza guardare il testo Mi farebbe ridere Immaginarla A versione Country Noi siamo sotto Il palco A sentire Questa versione Country Qui con Il cappello Da cowboy E Gli stivali In moda Lei Che Anche perché Il country Americano Fa molto successo Quindi Bisogna Le parche Pensarci A questo punto Progetti futuri Oltre che Chiaramente Promuovere Continuare A promuovere Il disco Allora Il nostro obiettivo Primario È cercare Di suonare Più possibile Conoscere Più Più band Possibili Perché Nella scena Underground Italiana C'è veramente Tanta gente Che ha tantissimo Talento C'è anche Un bellissimo Clima Bellissime persone E noi vogliamo Più possibile Addentrarci In questa scena Poi abbiamo Già Qualche Canzone Nuova Che Abbiamo in previsione Di registrare E che già In qualche live Suoniamo anche Quindi se qualcuno Viene a sentirci Può anche già Sentire Dei pezzi nuovi Oltre a Questi Questi Quattro Dell'EPI Abbiamo parlato Tanto del Del disco Ma abbiamo visto Anche Del video Fatti Con amici A questo punto Quando nascono Questi due video Perché sono due video Della stessa canzone In modo Una con Un classico Ma poi c'è Un babbo natale Che Poi gioca Con l'altalena Non si sa Questo babbo natale Un pochino Briconcello Perché Naviga Gira Senza senso Ma poi Alla fine Qualcosa attiene Sì Allora Noi Come filosofia Oltre a quella Dell'amicizia Avevamo anche Quella di Toglierci un po' Di dosso Queste regole Rigide Del mercato Musicale Quindi per esempio Sul Quando pubblicare Bisogna pubblicare Per forza Il venerdì Della settimana E solo In certi mesi Dell'anno Noi abbiamo voluto Mandare a quel paese Un po' Queste cose Abbiamo pubblicato L'EPI Il 25 dicembre A Natale E poi da lì Abbiamo costruito Anche Diciamo La campagna Promozionale Sul vestire Cesar Martins Da Babbo Natale C'è anche un video In cui dove Simuliamo una rissa Con lui Un rapimento E quant'altro C'è anche la scena Dell'Altalena Fondamentalmente Tutto legato a questo Un po' Come critica Per queste regole A volte Secondo me Un po' superate E anche un po' Perché Perché era divertente L'altro video Invece Quello un po' Più Normale Mi verrebbe da dire Su YouTube È un video Fatto Da Da un nostro amico Banalmente Sono riprese Messe insieme Fatte col cellulare Di vari momenti Di uscite Con la nostra compagnia Che secondo me È molto bello Magari per chi non ci conosce Può avere poco senso Però per noi Ne ha molto Perché rappresenta Proprio la La nostra amicizia E tutta la coesione Del nostro gruppo E a questo punto A questo punto Tanto ti ringraziamo Per essere stato ospite Grazie a voi Tutta la band Ringraziamo tutta la band Ricordiamo i nomi Della band E tu vuoi? Il libero professionista Io sono Jacopo Bassista E cantante Poi c'è Bobo Batterista E Matteo ed Emilio Che sono i due Chitarristi E coristi E a questo punto Mangano due cose Fondamentali Dove potervi raggiungere Per potervi ascoltare Oltre che Locali Poi nel tempo Sapremo i locali Dove raggiungere Quindi i social E I saluti finali Allora Noi ci siamo su Facebook Instagram Sempre sotto il nome Di Il libero professionista Ci potete sentire Su tutti I siti Di streaming Quindi Spotify Apple Music Anche su YouTube Abbiamo anche un video Di Cesar Martins Su YouTube Fatto Dai nostri amici Per mantenere sempre La filosofia Del disco E presto suoneremo Anche abbiamo Un live in programma Al 22 marzo Al CQ di Milano E presto arriveranno Anche altre date Vi saluto tutti Grazie mille di Averci invitato Qui in radio Per l'intervista E vi auguro Una buona continuazione Studio Set TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata E per l'intervista di Pietro Di Bologna E per l'intervista di Pietro E per l'intervista di Pietro E per l'intervista di Pietro